Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Kate Middleton è la moglie dell'erede al trono William, principe dei Galles. In questi giorni Kate ha subito un delicato intervento all'addome e le sue condizioni di salute continuano a destare preoccupazioni tra i sudditi. È trascorsa la prima settimana di ricovero dall'operazione della principessa e per adesso le informazioni sulla sua salute sono ancora top secret. Le voci vicine alle fonti reali dicono che si è andato tutto per il meglio e che Kate potrà tornare a casa già dal fine settimana o dall'inizio della prossima settimana. I.L. Daily Mirror ha ascoltato alcuni inservienti di Kensington Palace che hanno rivelato come il principe William si sta occupando dei figli, George, Charlotte e Lewis. Kate è sempre stata una staccanovista e rimanere a letto per così tanti giorni la sta annoiando, stando a quello che dice il Mirror. Purtroppo, secondo The Telegraph, l'adegenza a casa, ad Arlaid Cottage potrebbe essere più lunga del previsto. Si parla, infatti, di oltre tre mesi, stando a quello che ha rivelato il dottor Candni Raiani. Dunque, per la principessa si prospetta una lenta ripresa.